amiche e amici ben trovati a questo nuovo episodio del podcast dedicato ai festeggiamenti patronali in onore di san ciro a grottaglie in un episodio scorso vi abbiamo raccontato di quelli che furono le proteste e tumulti scaturiti dal mancato ritorno della venerata immagine di san ciro alla chiesa dei paolotti al termine dei festeggiamenti patronali in altre parole san ciro si è sempre stabilito diciamo così in due luoghi ben precisi appunto presso la chiesa dei paolotti durante tutto l'anno e presso la chiesa madre durante invece il periodo dei festeggiamenti patronali salvo qualche momentanea sosta magari dovuta al maltempo quello che invece è sempre stato errante è un altro dei monumenti dei luoghi simbolo dei festeggiamenti patronali in onore di san ciro ovvero la pia questo perché nel corso degli anni appunto sono stati diversi i luoghi dove è stata allestita la grande focra che brucia la sera del 30 di gennaio per vari motivi uno legato evidentemente a quello che è stato lo sviluppo urbanistico di grottaglie negli ultimi anni alcune zone che fino a qualche decina d'anni fa erano di fatto periferia oggi sono diventati centro cittadini quindi mentre una volta era possibile allestire un grande falò in queste zone senza creare grossi problemi ai residenti o in tralce al traffico veicolare oggi lo renderebbe di fatto impossibile aggiungiamo anche la presenza magari di un gruppo di fedeli particolarmente appassionato che in qualche modo si dava da fare per realizzare proprio vicino alle loro abitazioni vicino alla loro zona di residenza questo momento di celebrazione della fede e della passione nei confronti del santo di alessandro insomma nel corso degli anni appunto ci sono state diverse location usando un termine straniero alcune appunto sono state cambiate per motivi anche di ordine pubblico per rendere più sicuro questo evento per fare in modo che ci fossero gli spazi necessari sia per le tante persone che si affollavano per vedere l'accensione della pira per permettere un loro deflusso in caso di emergenza per permettere l'arrivo dei mezzi di soccorso in caso di necessità altre volte lo spostamento è stato dovuto appunto a quelle che erano delle oggettive difficoltà e dei problemi che venivano creati residenti immaginate al centro cittadino un grande falò che brucia per diverse ore e quindi presenza di fuligine di fiamme di fumo un grande calore che era arrivato in alcuni momenti addirittura praticamente a fondere le serrande e i serramenti in plastica delle abitazioni vicine insomma tanti problemi di fatto insomma come vi dicevo la pira ha fatto un po una sua processione non me ne vogliate per questa un po ironica definizione quali sono stati alcuni dei luoghi che sono stati appunto contrassegnati alla presenza della pira cito a memoria il primo evidentemente quello dalla piazza regina margherita davanti alla chiesa madre evidentemente un luogo simbolo perché mentre all'interno della chiesa veniva alloggiato lo stato di san cito davanti alla chiesa appunto si ardeva una pira in suo suo onore una usanza che è stata ripresa in qualche modo qualche anno fa quando appunto è stata realizzata una piccola pira di fronte alla chiesa matrice non potendola realizzare appunto l'anno scorso per motivi legati al covid poi la pira è stata spostata in piazza verdi appunto la zona all'opera era quasi periferia oggi è di fatto una zona centrale praticamente una delle zone della via dello shopping di rottaglio si è poi spostata in un largo spiazzo nel rione di sant'elia nei pressi dell'ospedale san marco poi su un terreno privato nella zona della 167 è arrivata poi a piazza san ciro in uno spazio appunto adibito in questa piazza proprio dedicata al santo di alessandria poi si è spostata un po lì vicino in un altro terreno tra piazza san ciro e viale a rosso in un largo spiazzo che molti chiamano campo san marco poi ancora la pira è stata portata presso la nuova scuola pignatelli poi in zona paparazzi dopo il cavascavia quindi all'estrema periferia di rottaglie e adesso è al momento nella zona 167 bis ancora una volta su un terreno privato ecco da anni si chiede si evidenzia la necessità di dare una ubicazione stabile alla pira di realizzare proprio tutta una serie di infrastrutture che permettano la realizzazione di questo momento di fede e non solo di raccoglimento di incontro sociale in maniera sicura e affidabile se ne parla da diversi anni speriamo che prima o poi questo si realizzi anche se come dicevamo tutto ciò è legato anche a quelli che sono gli sviluppi urbanistici della città e quindi non è di facile individuazione e definizione in parallelo alla pira se vogliamo raccontarlo quello che è l'altro momento clou del dei festeggiamenti patronali di san ciro beh sono le giostre specialmente per i più giovani e qualche anno fa il momento del festeggiamento del santo di alessandro era anche il momento in cui ci si poteva divertire a luna park sugli autoscontri sulle giostre che mettevano più o meno alla prova il coraggio come il tagadà il ranger il tunnel della paura il tirassegno insomma ce n'era per tutti i gusti ecco sempre andando a memoria negli anni 80 le giostre erano in lo slargo di via calò uno slargo che ancora è ad essere presente e dove all'epoca era ubicata una masseria di maestro carmelo de angelis all'inizio degli anni 80 le giostre passarono dietro lo slargo invece dove c'è adesso la scuola d'amicis in una zona di via calò negli anni successivi le giostre passarono tra via collodi e viale di vittorio nella strada nella zona appunto che portava a piazza san ciro con la pira vicino alle giostre mentre le bancarelle altro luogo di perdizione diciamo così e di ritrovo erano sul viale matteotti da gennaio 84 fino agli inizi degli anni 90 giostre era la zona del campo sportivo mentre le bancarelle in via di vittorio e poi dagli anni 90 e poi le giostre sono arrivate al campus campitelli mentre le bancarelle diventarono un po itineranti tra il viale di vittorio il viale gramsci ed altro di queste memorie storiche ricordi ringrazio gianfranco pierri che mi ha aiutato un po a ricostruire le location e gli anni e aggiungo anche che come dicevo in un episodio precedente scherzando ma non troppo grottagli un paese ricco perché ha tre santi patroni e di questo santo patrono san ciro ha addirittura tre processori beh c'è stato un periodo in cui san ciro aveva anche due pire perché effettivamente c'era a metà degli anni 80 c'era la pire in piazza san ciro e poi c'era quella in zona santelia tant'è che molti i fedeli soprattutto i più giovani correvano da un posto all'altro per vederle entrambe cercando di non perdere troppo tempo poi in realtà si pensò di differenziare le date delle due pire quindi la pire in piazza san ciro ufficiale chiamiamola così si accendeva appunto la sera del 30 di gennaio mentre quella nella zona di santelì venne accesa durante la processione di ritorno quella che portava poi l'immagine di san ciro dalla chiesa matrice che la riportava ai paolotti che passando appunto dall'ospedale san marco in qualche modo passava appunto anche di fianco a questa nuova pira che veniva realizzata insomma ci sono tanti episodi legati anche a questo spettacolo un vero e proprio spettacolo abbiamo già detto altre volte una vera forma di ingegneria di costruzione è anche un momento di incontro sociale ancora oggi chi ha una certa età ricorda la voce di mestulice non solo che gridava con voce stentore avvicinatevi alla statua per portare l'offerta il modo in cui ci si scambiava so scherzando la famosa battuta c'è volite la banno li fuechi individuare altri due momenti delle feste patronali insomma ripeto la pira è sicuramente un momento catartico per certi aspetti dalla forte simbologia come abbiamo raccontato in altri momenti e in altri episodi di questo podcast ed è uno spettacolo affascinante soprattutto per i più giovani per i bambini che vedevano queste fiamme immense che si alzavano verso il cielo ecco questi erano un po i luoghi della pira di grottaglio spero di non averne dimenticato nessuno ringrazio ancora una volta gianfranco pierri per avermi aiutato nella ricostruzione logistica di dei vari luoghi dove la pira è stata realizzata io vi ringrazio per l'attenzione e vedo appuntamento al prossimo episodio del nostro podcast dedicato ai festeggiamenti patronali in onore di san cino e grottaglio ciao